Ciao, sono Rosalia Gioveniani, vengo da Verona e mi trovo qui in questa clinica perché avevo dei grossi problemi e così mi sono rivolta a questa clinica. Qui mi sono trovata benissimo, ho fatto degli impianti, sono venuta due o tre volte per sistemare tutti i miei problemi, adesso mi trovo qua con un bel sorriso finalmente e devo solo ringraziare le persone qua che che mi hanno aiutato in questo mio problema. Io qua mi sono trovata benissimo, la clinica è bella, si sta bene, col personale si trova bene, ti aiutano, se hai problemi ti spiegano benissimo, i dottori sono in gamba e diciamo che ha fatto un grosso lavoro però ha patito tanto dolore non posso neanche dirlo perché sono bravissimi nel suo lavoro che fanno, basta non avrei altro da dire, devo solo consigliarlo a tante altre persone. Grazie.